È stata più una notizia, diciamo, degli ultimi giorni di mercato. Ci siamo trovati con il direttore e logicamente con i miei agenti, però non è una cosa che sapevo fin dall'inizio. Cosa dire, sono molto contento e orgoglioso sicuramente di essere qui e spero di fare il meglio possibile qui con il Frosinone. Ho fatto metà campionato in Serie C al Piacenza, quindi diciamo che prima di fare questo salto mi sarei aspettato di finire la metà di campionato in C. Però è arrivata questa occasione e logicamente ho accettato subito. Dire se sono pronto, sicuramente io sono qui per imparare, perché davanti a me ho due portieri come Bardi e come Iacobucci, che non serve che ve li presenti io e quindi ho solo che da rubare da loro e fare del mio meglio per farmi trovare sempre pronto all'eventuale caso. Guarda, un gruppo sicuramente fantastico, un gruppo che è umile, ogni ragazzo è umile, mi hanno accolto molto bene, mi sono trovato benissimo fin dal primo minuto. e niente, un gruppo di grande qualità sicuramente, che secondo me se si riacquista la fiducia che aveva nella prima parte del campionato potrà fare grandi cose e sono sicuro che con il passare del tempo sarà così. Il mio obiettivo personale è sicuramente quello di finire questi mesi allenandomi al massimo, facendo vedere al mister, al direttore, a chi di competenza che io in questa squadra ci posso stare e nell'eventuale caso, ripeto, farmi trovare sempre pronto, che siamo quest'anno, l'anno prossimo o comunque gli anni a venire, perché voglio dimostrare di che pasta sono fatto, di cosa posso fare e questo sinceramente è il mio obiettivo personale. e questo è il mio obiettivo personale.